Previsioni meteo per mercoledì 25 febbraio. Al nord ancora molte nubi con deboli piogge su Friuli e Romagna, con neve in appennino fino a 400-500 metri di quota, nubi irregolari al nord-ovest. Al centro generali condizioni di maltempo con piogge e rovesci diffusi, neve fino a 400-500 metri su Toscana, Umbria e Marche, oltre i 700-900 su Sardegna, Pennino Laziale e Abruzzese. Al sud nuovo peggioramento del tempo su Sicilia e Basso Tirreno, con piogge ed acquazioni sparsi in locale estensione verso Molise e Puglia. Venti tesi forti settentrionali. Mari molto mossi o agitati. Temperature in calo.